Ed è stata allestita oggi pomeriggio a Palazzo Bianchi di Adrano una mostra artistica a cura di due pittori adraniti, Carmelo Petronio e Alfredo Leanza, con la collaborazione dell'Associazione La Locomotiva. Sentiamo. La sala Fabrizio De Andrè di Palazzo Bianchi apre le porte a una mostra artistica di due pittori adraniti, Carmelo Petronio e Alfredo Leanza, che sono i promotori di questa mostra e gli autori di questi dipinti che state vedendo grazie alle riprese del nostro cameraman Guido D'Aquino. Una mostra che durerà fino a domani sera e che è stata organizzata appunto grazie alla collaborazione dell'Associazione La Locomotiva. I due protagonisti, naturalmente loro, Carmelo Petronio e Alfredo Leanza, che abbiamo sentito in questa intervista. Questa è la nostra prima mostra. Sono opere scolastiche, opere personali, commissioni. Abbiamo raccolto quello che di buono abbiamo fatto in questi anni e l'abbiamo messo in mostra per la prima volta. Avremmo potuto esporre a Catania, avremmo potuto esporre a Nicolosi, in altri paesi, ma per la nostra prima mostra abbiamo deciso che Adrano doveva essere la sede. Cioè noi siamo nati da Adrano, crediamo in Adrano e quindi abbiamo scelto di esporre nel nostro paese e anche per avere un ritorno culturale, insomma. Ecco, parliamo nel dettaglio di queste opere che avete fatto. Che tecnica avete usato, lo stile? Insomma, vogliamo un po' parlare delle tue opere. Allora, le mie opere sono quasi tutte su tela. A parte anche qualche gessetto, qualche acrilico, qualche acquerello. Sono quasi tutte opere a olio su tela. A olio come ad acrilico, ma la tecnica più raffinata ovviamente è la pittura a olio. Pittura a olio su tela che richiede tanta pazienza, tanto esercizio, tanto sudore, anche se non sembra. I temi che hai trattato? I temi che ho trattato, essendo tra l'altro anche molte repliche di esercizio scolastico, i temi sono dalla pittura accademica alla pittura classica, quella moderna, all'astrattismo. Il filo conduttore e la figura umana, quella che più si ripete nei quadri. La mostra è stata fatta più che altro per mettere, prima di tutto, per mettere alla luce le nostre opere, i lavori che noi facciamo all'interno della nostra cameretta, del nostro laboratorio. Poi più che altro è fondamentale il luogo che abbiamo scelto, non in quanto il Palazzo Bianchi, ma in quanto il paese di Adrano, perché noi siamo di Adrano. E quindi dobbiamo riuscire a spingere un movimento artistico, un movimento anche culturale, in un certo senso, che faccia smuovere Adrano e non lo renda famoso solo per la delinquenza o anche per omicidi o quant'altro. Ovviamente la mostra racchiude alcune mie opere, come racchiude le opere del mio collega. Gli stili sono ben diversi, lui si aggrappa più che altro a uno stile molto classico, il mio invece è uno stile che si aggrappa alla strada, uno stile molto futurista, molto astratto. Parte prima di tutto da materiali che sono non comuni alla pittura, quale appunto lo spray o il pennarello stesso. E questo fa capire più che altro la bravura di un eventuale artista, non me perché io sono uno dei tanti, la bravura nel dare una minuziosità a dei dettagli, essere preciso, essere pulito soprattutto, cioè dare dei tagli perfetti.